per le gallerie di punta come abbiamo detto in un video precedente è di fondamentale importanza tenersi al passo con il mercato e quindi presente all'interno del loro dna una ricerca e una innovazione costante cerchiamo di fare un esempio pratico per capirci meglio se una galleria di punta decide di valorizzare le opere di andrea barnabba parise le opere di andrea barnabba parise all'interno del processo di valorizzazione e promozione artistica ovviamente saliranno di valore e quindi le quotazioni man mano saliranno e più salgono le quotazioni più ovviamente la galleria ha interesse a stringere maggiormente i rapporti con andrea barnabba parise il problema però è che questo processo di valorizzazione è normalmente lungo e se all'interno di tutti questi anni quella galleria si concentra soltanto nei rapporti con andrea barnabba parise perderà lo status di galleria di punta perché arriverà un punto in cui andrea barnabba parise non sarà più l'artista del momento e quindi sarà inevitabilmente scavalcata da altre gallerie che offriranno degli autori molto più freschi appunto autori del momento le strategie culturali e commerciali di questi pionieri del mercato dell'arte contemporanea sono ancora molto simili a quelle adottate da duran ruel all'interno del suo lavoro e ne avevamo parlato in un video che vi linko qui sopra il problema però è che per la necessità costante di aggiornarsi la maggior parte di loro non riesce a stare a passo con i tempi in una situazione simile gli attori che non hanno un potere economico paragonabile a quello degli alti livelli non hanno assolutamente alcuna possibilità di concorrere con loro ecco perché questi attori normalmente che siano gallerie o che siano anche mercanti lavorano da subalterni di positivo per gli artisti o almeno per alcuni artisti c'è da dire che le strategie e i processi di valorizzazione culturale e di legittimazione sono molto meno lunghi a volte anche brevissimi e questo avviene sfruttando sia ovviamente tutto quello di cui abbiamo parlato nel video precedente sia anche ovviamente i mass media la potenza dei mass media è anche il marketing più generico in questo contesto e con questi strumenti creare un vero e proprio caso diventa piuttosto semplice ed è anche piuttosto semplice generale un forte interesse speculativo nei confronti di un determinato artista va considerato infatti che una volta che si smuovono questi movimenti globali questa rete globale perché appunto si tratta di aziende che hanno un networking a livello globale e una volta che parte questo networking è praticamente impossibile che non nasca un interesse generalizzato per l'artista che viene valorizzato vengono organizzate infatti mostri in tutto il mondo una spietata promozione a livello critico e anche marketing di ogni genere è fondamentale inoltre per creare maggiori interesse su un artista collocare le opere di questo artista nelle collezioni giuste per citarne due tra le più note ci sono quelle di charles sacci di londra e quella di franzo apino a parigi capite bene però che per riuscire in tutto ciò non basti semplicemente un forte potere economico che alla base deve esserci ovviamente ma deve esserci un vero e proprio potere politico che significa relazioni alleanze con altre gallerie con musei con collezionisti con grandi mercanti eccetera eccetera in sintesi gallerie simili possono imporre la loro leadership a livello globale come e quando vogliono va da sé che i problemi di tale modus operandi siano molti come primo problema e questa è un'opinione molto personale diventa difficile capire la relazione tra una quotazione e il valore artistico reale di quell'artista perché il problema è che queste gallerie sono così potenti che in realtà potrebbero valorizzare e far schizzare il prezzo alle stelle anche di un seme di anguria gettato all'angolo di un museo il secondo problema che viene citato da poli all'interno del suo libro sono gli investimenti a breve termine cosa significa significa che nella maggior parte dei casi i mercanti come anche le grandi gallerie essendo il prezzo molto frenetico ed essendo necessario appunto sempre aggiornarsi gestiscono la valorizzazione e soprattutto i rapporti con un determinato artista come un investimento a breve termine e questo crea un problema fondamentale perché mentre si nota un'impennata importantissima delle quotazioni delle opere di quell'artista poi nel tempo soprattutto quando non c'è un reale valore artistico mantenere quelle quotazioni diventa difficile come terzo problema sempre citato da poli c'è da dire che il mercato è sostanzialmente drogato da queste strategie e che quindi sia difficile o comunque non sia troppo utopico per l'emergere di un'arte veramente autentica ciò ovviamente non significa che non possa accadere il problema però è che il contesto artistico tende subito a valorizzare e a creare una critica e quindi a storicizzare anche le mode del momento che passano nei vari contesti come veri e propri valori e infatti possiamo osservare come il numero di artisti di successo tenda sempre di più ad aumentare alcuni anche molto giovani però sono sempre dei successi di breve durata proprio perché sono stati il frutto di una strategia a breve termine per rientrare subito nell'investimento perciò nonostante appunto ci sia tutta questa promozione tantissimi artisti che magari vengono promossi a breve termine nonostante questo sono sempre pochissimi gli artisti che poi negli anni riescono davvero a mantenere quelle quotazioni perché dimostrano di avere un valore culturale e artistico davvero autentico e voi cosa ne pensate di queste strategie fatemelo sapere nei commenti io spero che questo video sia stato utile e che vi sia piaciuto se così mi raccomando non dimenticate di mettere mi piace se poi vi interessa l'argomento mi raccomando iscrivetevi al canale perché usciranno altri video proprio su questo argomento del sistema dell'arte contemporanea noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su etica artistica ciao 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 Grazie a tutti.